Boom degli utili per il big tech americano anche nel terzo trimestre. Il balzo del cloud computing legato alla pandemia e il forte rimbalzo delle entrate pubblicitarie confermano il 2021 come anno d'oro per il settore. I risultati dei colossi tech Microsoft e Alphabet, capogruppo di Google, sono superiori alle attese di Wall Street. I ricavi combinati delle due società nel trimestre sono stati pari a 110,4 miliardi di dollari. Il 33% in più rispetto al trimestre corrispondente dell'anno scorso. La crescita appoggia sulla richiesta di cloud computing, in parte grazie al passaggio al lavoro a distanza, mentre Google ha visto un rafforzamento dei ricavi pubblicitari grazie alla ripresa dei viaggi e dei consumi a livello globale. Con il 22%, la crescita dei ricavi trimestrali di Microsoft ha raggiunto il livello più alto dal 2014, stimolata dal successo della sua divisione cloud, che è cresciuta del 36%. A Google il cloud computing ha mancato le stime degli analisti, ma con 5 miliardi di dollari segna una crescita annua del 45%. I vertici di Alphabet hanno indicato la ripresa dello shopping e dei viaggi come un fattore trainante per le vendite pubblicitarie. In particolare, le ricerche come Aperto Ora vicino a me sono state quattro volte superiori rispetto al periodo dell'anno scorso.